Professore, quali e quante sfaccettature della donna oggi presentate all'Uni3? Beh, devo dire che questa è una bella riflessione perché noi abbiamo composto, come dire, la figura della donna nei diversi aspetti, nei diversi periodi, dagli anni 50, a 70, 80, fino alla contemporaneità. E lo proponiamo attraverso alcuni brani che sono di riflessione, di documentazione, ma anche su un piano lieve di satira e di ironia, perché a volte la satira ha una funzione superiore alla riflessione critica molto approfondita. Un'immagine della donna assolutamente positiva e assolutamente in crescita. Continua felicemente il sodalizio con l'Uni3, questo è il secondo appuntamento ravvicinato quasi al precedente. Sì, ma io ho tantissimi anni che ormai frequento l'Uni3, ho fatto tantissime lezioni per l'Uni3 ed è un bel rapporto perché c'è un grande interesse di carattere culturale ma anche il peggio dell'intrattenimento. A proposito di festa della donna, è ancora vivo, secondo lei, nella società, un punto di vista sessista? Razzista? Sì, sì, purtroppo sì. Io una volta segnalavo, purtroppo in casi estremi, sì, segnalavo il senso del possesso dell'uomo che si manifesta in questi casi estremi di omicidi, di uccisione di ragazze, perché l'ex marito, l'ex vedanzato hanno il senso del possesso eccessivo e dunque questo si mantiene, purtroppo è radicato, sono casi estreme ma purtroppo esiste. Nella nostra Sicilia qualche anno fa il delitto d'onore non era punibile. Quella è una bella storia con una bella conclusione che si è abolito veramente.